Ehi tu, sei stanco dei soliti e noiosi show cooking dove non capisci e non assaggi nulla? Ma da oggi c'è... That's Amore Music Kitchen! Il primo swing cooking show! Sul banco di fianco alla band al vivo si alterneranno i migliori chef italiani. Ecco cosa bolle in pentola! That's Amore Music Kitchen! Bella musica, buoni piatti! È una cosa molto divertente, molto bella che sposa la cultura del cibo con la cultura dello swing italiano. Quindi fate un applauso, è un progetto bellissimo!